Ultimi accadimenti di una storia incredibilmente paradossale, dove da una parte due privati cittadini, Lista Tiziana e Alfonso Maria Pepe, reclamavano per usucapione al comune di Agropoli la proprietà della piazzetta adiacente alla porta storica del Borgo Antico e dall'altra un nutrito gruppo di cittadini che aveva organizzato una manifestazione pubblica sulla stessa piazzetta in difesa dell'abuso. Nonostante siano arrivate le rassicurazioni del primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, che ha dichiarato di aver parlato con i protagonisti del ricorso e di essersi accordati attraverso gli avvocati nel porre fine al contenzioso, gli organizzatori della manifestazione non hanno annullato l'evento che si terrà comunque il 28 maggio prossimo alle ore 18 e 30 sulla piazzetta in questione, per chiederne pacificamente l'intitolazione. La cittadinanza è molto contenta di sapere che la questione del nostro belvedere pubblico volga al meglio, scrivono gli organizzatori. Nelle piccole battaglie che possono apparire insignificanti vive forte il potere della democrazia. È chiaro il riferimento degli organizzatori al sindaco di Agropoli che nelle sue dichiarazioni ha parlato di questioni di minima importanza, sminuendo l'iniziativa dei manifestanti e invitandoli a manifestare sulla promozione della vaccinazione anti-covid-19. Una vicenda dunque che probabilmente vedrà il suo epilogo solo quando verrà dato il nome a quella che rappresenta una delle piazzette più suggestive di Agropoli, sperando che il tutto avvenga presto in considerazione del fatto che gli arredi per la posa in opera sono già pronti e che già troppe volte l'intitolazione è stata rimandata.